Via Berga, 7.51 del mattino. Ecco uno degli ultimi paurosi avvistamenti di lupi sull'altopieno di Asiago. Il video fa impressione. Eccoli i lupi ripresi da vicino prima mentre corrono per i campi, poi attraversano senza esitazione la strada. Guardate quest'ultimo esemplare, tanto bello quanto inquietante. A un certo punto sembra quasi puntare l'auto per poi deviare e salire lungo il pendio. Da tanti, troppi mesi, gli amministratori locali e chi vive in montagna denuncia una situazione preoccupante. Gli esemplari si avvicinano senza timore alle case, spinti probabilmente dalla ricerca del cibo. E il governo che fa, di fronte alle richieste di un aggiornamento del piano lupo, resta colpevolmente in silenzio.